L'ex asilo di via Fabio Filzi diventerà la nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo. La prossima settimana, ormai è ufficiale, partiranno i lavori. Un sospiro di sollievo, indubbiamente da parte di tutti i residenti della zona, anche perché questo stabile, completamente abbandonato ormai da tempo, era diventato rifugio, ricettacolo di spacciatori e consumatori di droga. C'era stato anche un esposto in procura firmato da 70 residenti. Allora, assolutamente una buona notizia. Finalmente siamo arrivati alla conclusione di quello che era un iter veramente lungo. In questo anno abbiamo portato avanti una serie di incontri sia con la ditta sia con la proprietà e finalmente la prossima settimana inizieranno i lavori. Da lunedì ci saranno in cantiere per Sei Toscana per la sanificazione dell'aria e poi dopo ufficialmente partirà anche la ditta per mettere a posto tutta quella che è l'aria e l'intervento sull'edificio. Nell'area c'era stato anche un incendio poco tempo fa, che solo per il tempestivo intervento dei vigili del fuoco aveva evitato danni alle abitazioni vicine. Qui sorgerà la nuova caserma della Polizia Municipale. Siamo in pieno quartiere di Saione, un quartiere indubbiamente che non è stato scelto a caso da parte dell'amministrazione comunale. Assolutamente sì, oramai è un progetto consacrato che da anni se ne parla e finalmente avrà una destinazione, finalmente avrà un inizio. L'aria verrà rivista totalmente, sarà anche un modo per avere e percepire più sicurezza da parte dei cittadini e diciamo finalmente quella zona avrà un luogo di interesse veramente importante.